Ciao a tutti, oggi parlerò di Whatsapp. Si possono inviare foto, video, documenti, messaggi e registrazioni vocali. E ad altri utenti via internet, utilizzando come identificativo il proprio numero di telefono. Ha un limite di età di 16 anni in tutta Europa oppure se si è in un altro paese un'età superiore. I pericoli che si possono correre sono il furto di identità, che è la foto profilo, che si possono creare dei account fagiulli oppure effettuare gli screenshot segreti. Cosa posso fare per non venire questo problema e di mantenere una certa responsabilità di mettere foto come profilo oppure non metterle proprio, di lasciarle solo per i contatti. E questo è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.